Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato al reality show Grande Fratello VIP. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez in questi giorni stanno regalando ai telespettatori dei siparietti bollenti Vi anticipiamo che nelle ultime ore la showgirl argentina e il ciclista hanno scatenato molte polemiche sui social network perché si sono lasciati andare a delle tenere fusioni all'interno dell'armadio della camera da letto. Se non avete avuto modo di vedere il GF VIP nelle ultime settimane, vi ricordiamo che all'interno della casa più spiata dagli italiani è nata la storia d'amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez video. In particolare il ciclista e la showgirl argentina dopo essersi scambiati un bacio sulle labbra dietro la tenda rossa del confessionale, si sono lasciati andare alla passione, perché hanno consumato il loro primo rapporto intimo nella suite. Successivamente la sorella di Belen anche se ha dichiarato più volte di non essere affatto pentita della decisione presa due settimane fa, ha avuto dei momenti di estrema tristezza, perché si è sentita in colpa nei confronti del suo ex fidanzato Francesco Monte. Cecilia e Ignazio hanno fatto l'amore nell'armadio come vi abbiamo raccontato nella parte iniziale di questo articolo Cecilia e Ignazio video non riescono a resistere all'attrazione fisica che provano l'una per l'altro, perché ormai si lasciano andare alla passione travolgente anche davanti alla presenza degli altri concorrenti. Avete capito perfettamente il ciclista e la modella argentina sono fuori controllo, perché dopo aver sperimentato la tenda e la capanna nella suite del GF VIP, si sono rinchiusi all'interno dell'armadio per godersi un po' di intimità. In particolare questa notte, mentre alcuni inquilini si trovavano in salotto, Cecilia e Ignazio sono stati ripresi in un momento che non lascia molto spazio all'immaginazione A quanto pare questi due concorrenti hanno consumato un rapporto orale, infatti nelle poche immagini presenti sul web la sorella di Belen è appoggiata contro il fondo dell'armadio vuoto, invece Ignazio è di fronte alla modella argentina. Come tutti sapete all'occhio del GF VIP non sfugge nulla, perché la regia del reality non appena si accorta di ciò che stava accadendo tra Cecilia e Ignazio ha cambiato immediatamente in quadratura, purtroppo i pochi secondi sono bastati per far scatenare i fan del reality show, perché il video è stato pubblicato immediatamente sul web ed è stato sommerso da molti commenti negativi. Se non avete visto il filmato travolgente di Ignazio Cecilia, vi ricordiamo che il ciclista dopo aver vissuto questo momento passionale, è stato chiamato in confessionale, ma prima ha detto queste seguenti parole alla sua amata siamo stati beccati. Per sapere tutto quello che accade all'interno della casa del grande fratello VIP, vi consigliamo di non perdere i prossimi aggiornamenti, cliccando il tasto segui, posto nella parte alta di questa notizia.